Buonasera amici di Goleada, bentornati al sesto appuntamento stagionale, siamo ormai prossimi alla pausa per quanto riguarda prima e seconda categoria che si ferma nell'ultima domenica di ottobre, si giocheranno invece i campionati due gironi di terza categoria, ma stasera ampio raggio per questa puntata di Goleada, presento subito gli ospiti, con piacere vado a presentarvi e alla mia sinistra Mario Vettovalli, consigliere Ajak, buonasera e benvenuto Mario, se non mi sbaglio sei già venuto ospite di Goleada, quindi al secondo intervento negli anni, qui dopo un po' di anni di assente, non ricordo precisamente la prima volta, credo qualche anno fa sei venuto ospite di Goleada. Sì è sempre un piacere, grazie per l'invito. Sei consigliere Ajak, ma chiaramente tu sei un uomo di calcio, quest'anno sei stato coinvolto dal progetto a Giulianova, dai una mano all'attività di base, anche sei responsabile di un gruppo dei giovanissimi, quindi coordinatore dell'attività di base, correggimi se sbaglio. Sì, diciamo che è stata una scelta anche dovuta al fatto dell'aggiornamento, è importante nel settore giovanile vedere le linee guida anche moderne quali sono e ringrazio ovviamente la società tutta, dei giallorossi Giulianova, del Giulianova Calcio, del responsabile tecnico Antonio Serena che mi ha dato questa possibilità e ovviamente cerchiamo di far crescere i ragazzi nella maniera giusta. Un bel acquisto, perché poi dopo si inizierà anche la fase di mercato, si lodano sempre le società per gli acquisti, quelli fatti in campo, ma quando poi si vanno a mettere i giusti tasselli anche in ambiti di staff, di giovanili, di società, questo non è meno importante assolutamente. E alla sinistra di Mario, io conosco come uomo Ajak storicamente, anche Lucio De Julis, Buonasera Lucio, però stasera insomma allenatore, principalmente lo presentiamo come allenatore, poi dopo lui ci spiegherà le motivazioni di questa denominazione qui, perché comunque voi siete allenatori e principalmente siete allenatori e poi dopo ricoprite queste cariche istituzionali ormai da qualche tempo. Buonasera, benvenuto Lucio, dopo una bella stessa è un po' che non ci vediamo. Sì, diciamo sempre ringrazio a te Angelo, perché questa volta mi sono fatto un po' attendere e desiderare, ma in realtà non è così, sono stati a parte impegni di lavoro, ma sinceramente è un momento di confusione generale e appunto ti ho chiesto di non mettere delegato Ajak a qualche robe varie, anche perché ho dato in questi giorni la mia disponibilità a candidarmi alla Presidente Provinciale. Non nascondo interesse e volontà di continuare a fare in questo gruppo qualcosa di importante che si è fatto. Io non voglio parlare di cose non fatte in passato o si poteva fare, ma vorrei parlare di cose che si può fare in futuro e questo arriva a un punto che magari si prende una decisione. Ho detto sì, voglio essere un allenatore perché comunque l'allenatore è quel mondo che mi affascina, però attualmente sono da alcuni anni che sto all'interno dell'Aiac. Stasera ne parleremo, ne parleremo ampiamente, svisceremo i vari temi cari al mondo dell'Aiac, al mondo di tutti gli allenatori, assolutamente. Ma prima partiamo dall'attualità perché si è giocato un turno importante, dalla prima alla terza categoria, andiamo a vedere il quadro dei risultati partendo come sempre dalla prima categoria G1ND. Sesta giornata, l'Atletico Lemba continua la sua striscia di risultati, 3-1 sull'insula. 6-0 a Balanga, il Cellino batte il Castagneto, ancora più a Balanga ci dovete dare la spiegazione di questi risultati già roboanti. Cologna 8, Popoli 0 e 0-0 invece d'altro canto la sfida tra Lions Villa e Santomero. Va a vincere 3-2 l'Atletico Teramo il derby contro il Nevesano, qui abbiamo anche i gol riflessi firmati delle tre marcature ospiti. Silvi, Nereto 1-0, big match di giornata, se lo porta a casa il Silvi, tanto caro a Mario Vettovalli, poi ci dirai la tua su questo risultato a sorpresa? Un interrogativo. A questo punto non direi più di tanto perché il Silvi si ritrova, come vedremo dalla classifica, al comando. Teramo-Stazione-Morrodoro 1-1. L'ultima giornata credo fosse la Sfida della Dranus, poi la recuperiamo, eccola qui, grazie alla regia. Varano-Adranus 1-0. La classifica, eccola qui, dicevo, al comando Atletico-Lembe e Silvi, una coppia inedita, 13 punti per entrambe, 11 per Cologna-Nereto e Morrodoro, 10 Santomere-Varano, Varano ha cominciato a carburare un po' alla volta, Cellino-Teramo-Stazione-8, 7 per Atletico-Teramo, 6 Adranus e Castagneto, 4 Lionsville-N-Pezzano, 3 Insula e Popoli. Poi vi chiederò chiaramente un giudizio su queste prime sei giornate di prima categoria, è cambiato molto bello e avvincente. Scendiamo in seconda, anche qui girone D e anche qui sesta giornata, Campli-Valle del Vomano, 1-0 non era facile questa partita perché la Valle del Vomano è forte ma il Campli continua a vincere, come anche l'altra squadra di Campli che è il paterno tofo che fa un bel colpo sul terreno del controguerra 2-1, colpo anche del Martinsicuro 3-2 a Cortino e del Bellante al minuto 97 sul calcio di rigore San Nicolò contro la San Nicolese, Tosticia-Deportivo-Villa-Raspa 2-0, 2-0 del Bisenti nel derby esterno contro la Valle del Fino e vittoria dei Chietini del Villamagna 2-1 sulla Real Castellalto classifica. Eccola qui, Campli comanda a quota 16 punti che dopo sei giornate sono un bel bottino segue il paterno tofo a quota 13, Tosticia 11, Bisenti 10, Bellante 10, Valle del Vomano 10, San Nicolese 9 ma Bisenti e San Nicolese hanno una partita da recuperare e la recupereranno questa domenica appunto quando il campionato è fermo per la pausa, 7 Villamagna e Martinsicuro, 6 controguerra e Valle del Fino, 5 Cortino, 4 Real Castellalto, chiude a 1 punto il Deportivo-Villa-Raspa. Andiamo ora in terza, si è giocata la terza di campionato nel girone A, Corropoli-Tortoreto 1-1, Imocianesi-Biancazzurri-Torricella 1-0, vittoria della Tetic-Tortoreto sul campo della nuova Toranera 2-1, come anche colpo esterno dell'Ancarano 3-0 a Rocca-Santa Maria, Sant'Egidio 89 batte la capolista Real-Tordino 2-1, ha riposato il piano grande, equilibrio qui l'avevamo detto, avevamo capito che questo è un girone infernale perché sono tantissime squadre forti e tutto può accadere ogni domenica, al momento la classica vede al comando Real-Tordino-Ancarano-Imocianesi a quota 6, Corropoli-Tortoreto 5, Sant'Egidio 89-4, Rocca-Santa Maria-Nuotranese-Atletic-Tortoreto 3, 1 per Piano Grande, chiude a 0 il Biancazzurri-Torricella. Vediamo rapidamente anche il girone B di terza categoria, Caprafico-Castelli 1-1, Gran Sasso-Cerrano 0-3, Miano-Cerchiara 2-4, Polisportiva-Pinetum-Real-Pinetum nel derby 2-0, Virtus-Roseta-Arsita anche qui 2-0, ha riposato la Poggesi. Qui ci sono due squadre al comando che sono a quota 7, Virtus-Roseta e Polisportiva-Pinetum, segue il Cerchiara 5, Caprafico-Castelli-Real-Pinetum 4, Miano-Nova-Toranese 3 e anche l'Arsita, 1 per Gran Sasso chiude a 0 la Poggesi. Questo è il quadro dei risultati di giornata, ci veniamo tra un pochino, andando a vedere un pochino anche la prima, soprattutto la seconda, ma anche due parole sulla terza le diremo, ma adesso andiamo ai temi a voi cari, diamo un quadro di quello che è il mondo Ajax in questo autunno 2024, un autunno particolare, che l'avete un po' anche detto in fase di presentazione, siamo prossimi al rinnovo delle cariche, quindi con quale spirito, con quale aspettativa Mario Vettovalli e Lucio De Iuli se si avvicinano a questo appuntamento, immagino tanto atteso. Mario. Allora, noi sicuramente, io mi ricollego alle parole del collega e amico Lucio che appoggiamo in pieno, perché non ci dimentichiamo che se il campionato di maggior livello regionale, l'eccellenza, possiamo dire che al momento è tutto in regola, grazie al lavoro passato che si è stato fatto da parte in prima linea sua. Poi, voglio dire, Teramo, abbiamo letto molti campionati, da premettere io le partite le guardo tutte, quindi vado a vedere tutte le categorie, femminile, futsal, terza, seconda, prima, promozione, eccellenza. Guardo che cosa fanno gli allenatori per apprendere anche io, per vedere perché accadono certe situazioni e comunque poi quando chiamano o noi andiamo a vedere delle cose, si dice che si poteva intervenire prima. In più, si va sempre avanti anche nelle varie platform online, quindi l'allenatore ormai deve pensare che non è la società che guarda il suo escursus oppure ti mette o ti inquadra in regola, ma ci deve pensare l'allenatore stesso. Questo sta pure a noi, magari organizzare qualche evento in più e soprattutto renderci partecipi con le varie componenti LND, AIA, perché io rimarco che l'allenatore è obbligatorio. Quindi noi abbiamo bisogno di dialogo e di partecipare, di vedere perché l'allenatore non è riconosciuto in distinta nelle gare ufficiali o quando magari ha da dire qualcosa durante una partita che può essere anche d'aiuto nel settore giovanile. Mi auguro che tutto questo si possa fare perché noi lo vogliamo fare. Quindi da parte del Comitato Provinciale di Teramo la prima cosa sono anche i corsi, l'ultimo è stato fatto a Notaresco, ma non basta. Allora poi continuiamo il discorso con Lucio. Veniamo all'attualità perché è uscita la notizia di ieri, aiutatemi se è ufficiale non voglio dare notizie, però era stato sollevato dall'incarico Pagliaccetti a Rosetana. C'è il nome del nuovo allenatore, lo possiamo dire? Lo diciamo perché non ho visto i comunicati, però il mister Alfredo Di Marzio è il nuovo allenatore della Rosetana che è stato con noi qualche puntata fa. Quindi già qualche avvicentamento anche dal Badriatica si è cambiato, si è passati da Natale a Grillo, quindi do l'assist a Lucio prima di anche lui inquadrare un po' il suo… Io ufficiale non so niente, ho visto su qualche social questa notizia e ripeto, io penso che l'unico sconfitto è l'allenatore in questa situazione, per me sono sconfitte societarie perché a tre giornate, a quattro giornate togliere un allenatore per me c'è sempre qualcosa, non parlo del caso Rosetana o del Badriatica, ci mancherebbe anche perché conosco anche pochi dirigenti, però sinceramente questo avvicentamento è così, certo mi dispiace per Angelo Pagliaccetti perché io, c'è anche Mario Giulianova, non so, anche perché comunque Giulianova per me è stato quasi… io mi aspettavo quasi una riconferma a Giulianova quindi figura di Angelova, sì, mi aspettavo una riconferma a Giulianova per quello che aveva fatto, perché comunque per me è quello che può dare soprattutto un mister locale, però diciamo che questi avvicentamenti così a me fanno male, mi fa piacere per chi arriva, mi dispiace per chi va via, questo è un dato di fatto. Per quanto riguarda quello che ho sentito Mario, poi ci siamo già sentiti un po' prima della trasmissione, robe varie, io continuo a dire sempre che io non sto qua a fare una campagna pubblicitaria, politica… Le date anche perché non sono ancora ufficiose… Ma sì, date si sente il 7 dicembre, qualcuno… io dico solamente una cosa che… Hanno diritto al voto tutti gli allenatori… Tutti gli allenatori che sono associati e associati, io quello che posso dire è che ormai la carica… Dilettanti e professionisti… Dilettanti e professionisti, sì, è stata rinnovata la carica del FGC con Memmo, penso che sia quella degli alberi, di Santis, è vero? Sì. La nostra sinceramente ancora no, è stata già rimandata un paio di volte, ripeto, non capisco il motivo, perché secondo me adesso è arrivato un punto che queste lezioni vanno fatte per me, vanno fatte, ma a prescindere da carica mia o non carica, poi se io ti ho detto non faccio qua una campagna pubblicitaria, politica o meno, io parlo di carica personale, io attualmente ho questa carica, poi se poi… ma come ce l'ha Mario, perché quando lo sento parlare è proprio… ma come ce l'hanno in tanti e magari a lungo andare, ripeto, quello che è stato fatto in passato o bene o male non è a me dirlo, però le voci in giro, comunque tanti allenatori comunque si sentono un po' abbandonati, diciamo la verità e anche io lo vedo, lo vedo perché è facile fare il corso aggiornamento e associarsi e robe varie. Io per esempio quello che… lo dico adesso perché in realtà non è un problema, quello che vorrei fare, vorrei fare una sede, una sede dove c'è un legale, dove c'è un consulente Ajak, dove l'allenatore lo aggiorna, lo informa quello che serve, magari sta a telefono, a me non dà fastidio, nemmeno a Mario la telefonata ci mancherebbe, però avere un punto di incontro dove uno ci si incontra, due settimane, due settimane, dove chiede informazione. Io sinceramente molte volte quando vedo le trasmissioni televisive, vedo questi allenatori magari che si lamentano il rispetto dell'albitro, mi ha buttato fuori, ormai c'è una cosa, una sudditanza nei miei confronti, io non credo a questo, ci mancherebbe, non credo che un albitro possa pensare una cosa del genere, poi può anche succedere questo, che magari l'albitro si sentono, si parla, magari la settimana prima mi ha detto così, ci penso io magari alla prossima, e magari perché no, siccome la FIGC fa questi incontri con i capitani, perché non farle noi anche come Ajak con l'Aia, con gli altri, cioè incontrarli e diciamo abbiamo questa situazione qua, perché si verifica questo, perché sarebbe importante, sarebbe importante, avere una sede nostra, dove parlare, non si può magari sentire un allenatore che sinceramente si lamenta giustamente, poi darsi io lavoro una settimana, poi magari alla prima parola vado fuori, poi darsi che quell'allenatore sta sbagliando, ma perché non fare un confronto, stai sbagliando questa situazione, l'area tecnica, quello da rispettare, io queste cose… Vedevo Mario annuiva su questo aspetto qui, sarebbe una bella innovazione, una bella novità. Ma sarebbe questo la minima cosa, poi quello che voglio dire, per esempio tanti allenatori non sanno nemmeno Coverciano, dove sta, c'è nel senso, sta a Firenze, ma magari organizzare dei pulma due volte all'anno… Dove noi tra l'altro abbiamo la sede principale, quindi siamo proprio sindacati. Qualche società lo fa autonomamente. Autonomamente, però tanti allenatori, sarebbe per esempio c'è la fiera di Rimini, organizzare un pulma e andare… perché non fare una sede dove la domenica sera ci si vede la partita e creare come una… Eh, questo è proprio… C'è, capito? Creare comunità tra gli allenatori. Però intanto tu crei, poi magari anche di fallimentare, però intanto ci hai provato, però restare fermi, così no, perlomeno è questo che mi sto accorgendo io da fuori. e nemmeno, anche se su queste elezioni magari, vorrei un incontro regionale, provinciale, spiegare perché sto silenzio ha senso. Cioè, sinceramente, delle volte non mi so da spiegazione e delle volte vado anche in difficoltà. Qualche allenatore che mi chiamo… Abbiamo dei messaggi, poi li vediamo adesso… Sì, sì. Voglio far replicare Mario, che vedevo prima a Nuiva, d'accordo con le parole di Lucio, e poi ci vediamo già un primo blocco di messaggi, in chiusura di prima parte. Sì, infatti mi ricollego pienamente perché il nazionale può essere partecipe anche in regione, poi comunque su quello che si diceva prima, questa fase di stallo, cioè una data poi un'altra, poi si fa, non si fa… Voglio dire, qua ci sono, insomma, più di mille tesserati che sono sulle nostre strutture sportive. Qualcosa in più va fatto, va rinnovato. La sede è una cosa principale dove magari possono uscire tante idee. Ripeto, Coverciano, ad esempio, come diceva Lucio, è la nostra sede principale. E quindi, tra l'altro intitolata a Nicoletti, che è l'ultimo corso, uno degli ultimi corsi li ha fatti qui a Teramo. Noi dobbiamo cercare di portare gli allenatori anche ad informarsi bene su quelle che sono per loro le cose utili, non solo fare da segretari. Questo va… anche perché ci sono molti allenatori, poi giovani, comunque che vogliono questo. C'è un bel ricambio generazionale negli ultimi anni. Sì, partecipano ai corsi. Quindi non vedo nulla di male nell'applicarlo. Penso che siamo anche pronti. Andiamo a vedere già un primo blocco di messaggi, poi un'altra parte ce lo vediamo più tardi, perché da quando abbiamo dato notizia sui social che eravate ospiti c'è stato fermento, sono arrivati tanti messaggi, alcuni che saranno spunto anche per un dibattito qui in studio. Come allenatore non mi sento tutelato, non vi sento, ma intervenire nei torti arbitrali. È un po' quello che dicevi tu. Spero che come presidente chiedi un confronto con AIA. Ma questo già abbiamo accennato una cosa del genere. Va bene. Quindi con l'AIA è chiaramente… È un punto principale. È un punto principale. Ma anche per spiegare anche il regolamento, per chiarire alcuni punti… Ma io ti ho detto, parto dal presupposto che la buona fede è la prima cosa. Quindi io non credo che un albero possa interessare la sconfitta di una società. Però magari anche dei comportamenti sull'allenatore, perché può essere un allenatore più carismatico, più… però comunque io, un allenatore, li conosciamo, ci sta quello… Però sull'educazione non ho dubbi. Quest'anno che segnali arrivano, insomma… Beh, tanti si lamentano di… L'AIA ha vissuto negli ultimi stagioni anche una necessità di ricambio, no? In promozione c'è stata la necessità di… Di fare due girone con un turno settimana e sabato. E questo capito? Questo la dice lunga, perché comunque è vero che l'albitro… Però magari anche lo sforzo fisico, comunque facendo due partite a distante di due giorni, non è che sia… magari si può essere meno lucido al momento della seconda partita, quindi si può stare anche questo… Più che altro è una componente importante, che è quella arbitrale, che se scoraggiamo i giovani a intraprendere questa… Ma io continuo a dire che… Ha fatto da tante componenti, quindi… Tante componenti… Anzi, io spero, verrà il Presidente Pelusi nello secondario, ma io già auspico che possano venire anche i rappresentanti dell'AIA quanto prima qui a Goliato. Di Teramo il Presidente è d'Alberto. Sì, sì. E io, il Mr. Luce, è più addientrato alle prime squadre. Io invece nel settore giovanile da cui provengo, ed è quella la mia missione di lanciare i ragazzi giovani nelle prime squadre, vedo anche gli arbitri ragazzi. Allora, negli esordienti interprovinciali non ci sono più gli arbitri. Quando i ragazzi magari da lì possono iniziare la forma mentis, ma anche nei campionati giovanili devono parlare con l'allenatore. Siamo noi quelli in campo, l'allenatore e l'arbitro, che magari invece parlano e rispondono con i ragazzi, si crea un clima non bello e quindi questo è inaccettabile. Si può fare tanto da questo punto di vista. Si può fare molto di più. Altri messaggi? Ancora almeno un po' prima di fermarci. Salve a tutti, voglio dire a Lucio che il programma di cui mi ha parlato l'altro giorno è veramente vario. Sicuramente scendolo in Porto con il Presidente. Un prossimo calupo, Lucio Francesco. Quindi c'è un programma, Lucio. Quello che accelgo qua, abbiamo parlato un po' con Mario. Quello che abbiamo... È logico che non vado là per dire per la poltrona, perché comunque tutti sanno che comunque se si fa questa attività, questa cosa non si fa a livello economico, questo sicuramente anzi. però vogliamo provare con un programma che poi se sarò in grado, se saremo in grado di portarla avanti, no. Però ci voglio provare, almeno la possibilità di provarci. Questo sicuramente. Andiamo, andiamo, ne sono veramente tanti. Quindi continuiamo a leggere i messaggi che sono arrivati per Lucio e Mario, il rappresentante di AIA. Grande Lucio faccio il tipo, vediamo Presidente per dare una sistemata, Nicola. Una sistemata. Io mi ricollego su questo messaggio perché, voglio dire, adesso non è retorica, ma chi meglio da Lucio, che è stato sempre presente sui campi, gli allenatori, ma anche noi stessi, tutti vogliamo la presenza dell'AIA nelle varie sedi opportune, ma anche sul campo. E quindi questo deve tornare ad essere. Ancora. Lucio, non dimentichiamo quello che hai fatto finora. È il lavoro di questi anni come la notte degli Oscar. Posso testimoniarlo in prima persona. Hai organizzato un evento importante delle mesi serate. Speriamo che ce ne siano tante altre con te come Presidente. Forza Lucio, da Antonio. Quindi, insomma, un bel ricordo. Sì, sono bel ricordo. Sicuramente, la diciamo che la parte principale... Una bella... Sì, è bella manifestazione. È stato apprezzato dagli allenatori. Ti posso dire una cosa, Angelo. Tu mi hai coinvolto in quel programma, in quel progetto. È veramente bello. Veramente bello. Anzi, scusate il Covid che... Lì sarebbe bene fare una cosa insieme alla federazione. È molto bello. Ma adesso la federazione che gestisce questa serata... Diciamo che è verità che... Con il grande... Sembrava una manifestazione, ma noi, per far salire l'allenatore sul parco, doveva essere tesserato in primis, ma doveva essere associato, non ricordo. Quindi comunque non era... Fino a se stesso. Fino a se stesso. Ancora un altro paio di messaggi. Vediamo così poi andiamo in fascia pubblicitaria. La candidatura di Lucio Iuris è simbolo di garanzia e serietà rispetto delle regole. Domenico Ezzotti, quando si firmano è ancora meglio. Poi un autorevole... Fa piacere che è anche un mister del settore giovanile. Un autorevole... Salutiamo, mister Ezzotti. Insomma... Quindi... Appoggia la tua candidatura, insomma... Quello che hai esaminato in questi anni. Fa piacere. Fa piacere perché comunque ci siamo sentiti anche spesso. Poi prima stavamo parlando con Mario, prima che sta facendo un buon lavoro a Sant'Omero. Sì, sì. Il settore giovanile, quindi... Mi fa piacere questo... Sul settore giovanile mi rilego nella federazione che anche le rappresentative ci auguriamo con la nostra presenza con Lucio e vari esponenti che siano associati. Io sono stato su... C'è da lavorare qui. C'è da lavorare qui. C'è da lavorare. Perché comunque voglio dire che quando hanno fatto i selezionatori delle rappresentative, là ho fatto un'iniziativa, un post stupido che poi in realtà era quello che volevo dire. che adesso bisogna avere dei selezionatori anche nel terramano. Perché abbiamo visto... Al momento non... Ma ultimamente, mi sa, Cifaldi fu l'ultimo. Basta. Non abbiamo avuto mai. Quindi sempre da parte di sotto. Fu una provincia poco rappresentata. Eh sì, perché comunque è facile chiamare la società e dire... Chi mi mandi tu? Cioè io vorrei che l'allenatore gira e guarda. Poi ultimamente è stato fatto che praticamente la federazione ha fatto un... Manifestazione interessa. Eh, quindi sinceramente ha fatto pure quello che tu ti puoi iscriverti a partecipare a questa cosa qua. E quello è un'altra cosa che fosse... Ultimo messaggio. Poi andiamo in pausa. Sono arrivati veramente tanti. Dividiamo in due blocchi. Un grande in bocca al lupo, Lucio. Da Carlo. Questo è un saluto da... Non so chi è, però va bene. Lo accetto volentieri. Ci fermiamo soltanto qualche istante. Poi seconda parte partiamo però dal calcio giocato. Certo, certo. Devo assolutamente aprire parentesi multiple in questa puntata. Andiamo in prima, in seconda e in terza. E poi continuiamo il dibattito sul mondo Ajax con Lucio De Julis e Mario Vettovalli a tra pochissimo. Seconda parte di goleata, stasera puntata particolare anche perché ci sarà la sosta di prima e seconda domenica prossima. Noi ci siamo presi una licenza, ma ogni tanto lo faremo con il mondo Ajax. Parleremo anche di mondo giovanile, anche se lo stiamo un po' facendo con Mario Vettovalli questa sera. Parleremo con la federazione, presto col presidente Pelusi e speriamo anche col mondo Ajax. Tanti messaggi, alcuni li abbiamo già letti nella prima parte. Adesso però concentriamoci su quello che è accaduto sui campi. Andiamoci a vedere un attimo la prima categoria. Vorremmo avere anche qualche gol. Il gol dell'Atletico Teramo che ha vinto un bel derby contro il Nepezano. Qui c'è stato lo scivolone del Nereto, ma scivolone non so se si può parlare con questa terminologia perché ha perso su un campo difficile Mario. Tu vieni da lì, sei stato lì lo scorso anno, sei stato protagonista anche di una ripartenza, di una rinascita. Che è successo quest'anno? Sicuramente venire in trasmissione con il Silvi che è il primo in classifica fa capire che quando c'è un lavoro dietro si ha il coraggio di azzerare, di ripartire dai giovani, prima o poi i risultati arrivano. Però purtroppo lì i problemi, come abbiamo visto pure con il centro federale, sono strutturali e credo irrisolvibili. Quindi do merito tanto alla società. Squadra molto giovane, ma in nominato è veramente molto giovane. Noi l'anno scorso facevamo la prima categoria lottando per salvarci, ma con la Juniors e avevamo iscritto anche il campionato di Under-19 provinciale. Quest'anno delle prime squadre che sono lì in alto, tranne il Colonia, non hanno il settore giovanile. Questo io ricordo la regola in promozione che poi si va a sanzione, però voglio dire che comunque nel Silvi sono entrati nuovi soci, nuove forze economiche, hanno allestito una squadra di vertice. Lo ha dimostrato domenica, anche se io ho visto molte partite, Varano, Nereto, lo stesso Colonia e secondo me la sorpresa del campionato sarà il Cellino. Queste le ho viste veramente attrezzate. Nei bassi fondi, una parola sulle squadre che sono lì, perché l'anno scorso c'eravamo noi, anche il Silvi era in quella lotta, sono imbottite di giovani. L'Insula è una squadra indecifrabile, non rende, la vedo ormai da due o tre anni che non esprime a livello tecnico, tattico, gioco, campagne acquisti, confusionaria. Spero che si riprenda subito perché faccio il tifo per loro a livello affettivo. Lucio, tu che idea ti sei fatto, la tua esperienza, cosa ti porta? Diciamo che ho visto poche partite, ho visto Varano, non mi ricordo che era, però il Varano secondo me è una squadra che sta uscendo e uscirà. Perché comunque ho sentito la trasmissione dove il mister Di Marzio parlava di, sta pagando un po' lo scotto, la delusione. Sì, parlava di questo. Secondo me questo un po' la penalizzare. Un po' di assenze anche avuto nelle prime giornate. Sì, quindi sicuramente uscirà a lungo e verrà su. Beh, diciamo il Silvi… Quelle che stanno stupendo sono, vabbè, Atetico Lempa, squadra buona, ma è in berce, però Cologna e Silvi sinceramente, Cologna ne avrò mossa. Tra l'altro il Varano è imbattuto e il Villalempa è il miglior attacco, quindi vuol dire che Di Ottavio, il DS che sicuramente merita qualche categoria superiore, si è mosso bene in estate ovviamente. Assolutamente. Beh, certo Cologna, lo stesso Morro d'Oro, Nereto hanno organi importanti e sinceramente il Cologna, sì è vero, può essere una bella sorpresa, però diciamo che quando ci sono persone serie a lungo andare il lavoro si vede, quindi Cologna è una neopromossa, quindi è una scorsa di una seconda. Ripescata, ripescata alla fine dell'estate. Se li abbiamo possiamo mandare i gol della Atetico Teramo, così poi andiamo a parlare un po' di seconda, questo è un derby, ne pezzano a Atetico Teramo, questo è bellissimo, il primo gol credo di Costantini, guardate che perla subito se l'è aggiustata sul destro e poi a giro sul secondo palo un Euro goal per Costantini a Atetico Teramo. Poi abbiamo anche il gol firmato da Merlini, questa situazione di calcio d'angolo, partita ricordiamo finita per tre reti a due, sì c'è stato un ponte, poi Merlini ha la messa dentro. Il terzo gol è un po' tagliato, però omaggiamo Domenico Campana che è riuscito con la sua rapidità, la sua agilità a siglare questo gol, che comunque ha dato tre punti importanti alla squadra dell'Atetico Teramo. Grazie, ricordiamo sempre di inviarci i gol video delle partite, ci permettono di pennellare la nostra trasmissione, anche con dei riflessi filmati dai Campi. Scendiamo in seconda categoria, andiamo a vedere l'AD, voglio un giudizio da parte degli ospiti, questo Campi che aveva pareggiato una delle prime partite, se non vado errato, poi però ha messo il turbo, anche con delle vittorie sofferte, perché se non mi sbaglio già è il secondo 1-0 consecutivo, però sono lì, la squadra di Giuseppe Antonio ha preso la vetta, c'è il Paterno Tofo che non molla, però le altre già sono un po' staccate, ricordiamo sempre che Bisenti e San Nicolese hanno una partita da recuperare, la recupereranno questa domenica. Mario e Lucio. Io tra l'altro saluto il Ministro di Giuseppe Antonio che è stato pure molte volte qui in trasmissione, siamo amici, penso che è un tecnico emergente, ma non più di tanto perché ha giocato a un buon livello e ha già vinto qualche campionato, mi meraviglia che squadre di categorie superiori non buttano un occhio su questi allenatori, penso proprio che il Campi sia una delle candidate principali per il salto di categoria. Lucio, questa seconda di… Ma guarda, il Cabio… Se non mi sbaglio non sono saltate panchine tra prima e seconda ancora, non so se mi sono perso qualcosa, ma al momento dopo 6 giornate tutto è relativamente… eppure ricordiamo che c'è la data del 30 novembre che… Sì, 31 dicembre. 31 dicembre è stato approvogato. E' stato approvogato, quindi forse per questo… Lo diciamo in diretta, quindi… Ma è una novità diciamo… Ma già da un po' di tempo però… Forse ci sta questa cosa fino al 31 dicembre… Eh sì, vabbè… C'è la possibilità di ricollocarsi in altri campionati. Anche lo stesso… non lo stesso giro… Non lo stesso giro, anche seconda o prima, ma l'altro… Però è lo stesso girone, sì certo. Eh sì, questa è una scappatoria, diciamo una piccola vittoria dell'Ajac, perché è un periodo… Basta che facevi già la Coppa Italia, la Coppa Abruzzo, non potevi più andare in nessuna solidarietà. Invece questo già è una piccola battaglia, vinte e rivinte, che sono piccole iniziative, che sono… È giusto che per me è un allenatore che sicuramente in categoria come seconda non è per un fatto economico, ma è un fatto di piacere e quindi privarlo di un piacere del genere. Quindi secondo me questo del 31 dicembre è una cosa, ripeto, non di missioni, ma esonero. Licenziamento. Ma al momento è tutto tranquillo comunque, almeno tutto… Tutto l'allenatore normale, secondo chi la vince, Lucio? L'Ajampel sta facendo… Anzi, chi contende diciamo lo scettro al cambio, perché questo è un po'… Guarda, io vi posso dire una cosa. Il Bellande, adesso mi sfugge il nome dell'allenatore, che è Ranali, che si era l'anno scorso a Paterno Tofo, che aveva fatto bene anche là, e sta facendo bene, perché 10 punti comunque sta facendo bene. È andato a vincere a San Nicolò che è stata una sfida tosta. E questo poi sì… Ricordiamo che San Nicolese potenzialmente potrebbe… Anche Biseni, Biseni e San Nicolese vincendo il recupero stanno veramente nei piani altissimi da Cassini. Quindi comunque sì, è molto animoso, sinceramente non l'ho seguito, sicuramente vi vado a vedere qualche partita, però comunque sono campionati importanti, nel senso che stanno tutti là, 16, 13, 11… Diamo uno sguardo anche alla terza categoria, perché noi non lasciamo nulla di intentato, assolutamente seguiamo tutti i campionati allo stesso modo. Qui c'è veramente un equilibrio, non ci stanno le squadre a mazza campionato che abbiamo visto anche negli ultimi anni. Soprattutto questo giorno di qua, gli addetti ai lavori anche che sono venuti ci hanno detto che qua veramente su 11 squadre ne abbiamo almeno 7-8 di un livello… erano anni che… è vero che il girone è da 11, anche qui se decisamente con 22 squadre la federazione ha deciso di dividere in due blocchi. Qui nel girone A non so se è stata una cosa casuale, ma veramente c'è un livello molto molto alto. Io faccio un appunto sulla terza categoria che è molto importante. Nel girone A e B ci sono squadre che fanno settore giovanile o hanno la Juniores e in promozione su 20 squadre, 12 non hanno il settore giovanile. Cioè paradossalmente c'è più rappresentanza di Juniores in terza che… Certo, certo, questa è una cosa… Cosa mai? C'è un caso oppure… Quindi vedere poi… È un problema di risorse. Poi io la cosa che vedo è che molti direttori giovani acquistano stranieri e quindi se non parte da loro questa cosa di strutturarsi… Io sono rimasto nelle società dove si fartiva dai piccoli amici, si arriva alla prima squadra e i giovani del vivaio andavano in prima squadra. Però adesso ci sono le mode, è difficile far giocare i ragazzi, però vedo che quando si ricomincia da capo, poi si riparla di giovani e mi ricollego ai gol di prima, ci escono tanti gol nelle categorie, anche perché il livello si corre di meno. Quest'anno è il primo anno che in prima categoria non ci sono i fuori quota ed è stato motivo per cui non ho più il fuoco dentro di fare quelle categorie. Perché se non ci servono i giovani, quindi non ci sarà ricambio futuro… Qualcuno dice che si mettono lo stesso, è vero? Ma io finora ti dico il girone della mano… Non è così vero. Forse Silvi, ma ripeto, lì hanno trovato un'eredità importante che già arrivava anche dai nuovi soci che entravano con realtà di settore giovanile molto più grandi. Però questo è importante perché togliamo i giovani dal campo e dopo in terza categoria si fanno i settori giovanili, in promozione si pagano le multe e tanti allenatori, questo diciamo pure a Lucio, che hanno preso il UEFA C, si ritrovano a spasso oppure… Lucio continua questo discorso qui, possiamo vedere rapidamente anche per dovere di cronaca anche la classifica del girone B. E intanto Lucio può continuare questo interessante discorso aperto da Mario. Guarda, io oggi, proprio oggi mi ha chiamato un allenatore, mi ha detto che è stato in trasmissione e ha toccato proprio il tasto… Di terza categoria? Sicuramente, non attualmente libero, nel senso, mi ha detto guarda, te lo mando un messaggio, mi fa piacere se mandi un messaggio del genere e sinceramente questa terza categoria va a toccare un tasto che a me, solamente la regione Abruzzo ha la non obbligatorietà dell'allenatore non abilitare. In tutta Italia, solo l'Abruzzo? Sì, solo l'Abruzzo, perlomeno. Che però in tante squadre abbiano animatori… Sì, però io diciamo che l'anno scorso, non devo toccare questo, sono andato via prima della finale della Coppa Abruzzo allo stadio di Teramo, perché è vero che… La Coppa della terza categoria, Coppa di Pietro. Sì, Coppa di Pietro, perché onestamente tanti hanno detto ma come fa sta… io non so se erano in regola, non erano in regola, però sinceramente tanti hanno segnalato che sto fatto in terza categoria, tanti sono… Noi abbiamo un patentino, appunto per divertirsi, diciamo, che poi non è così tanto perché hanno pagato per fare questo corso, prima, seconda e terza categoria, quindi ci sono dei ragazzi abilitati per questi campionati qua, quindi secondo me è questo un appello che vorrei anche fare, è un tavolo per parlare di questo problema, perché comunque noi ce l'abbiamo gli allenatori abilitati per la terza categoria, è giusto che lo fanno, perché comunque ci sta a chi lo fa per divertimento e quindi è anche giusto che si divertono loro. Un appello alle società a scegliere tra quelli abilitati. Ma guarda, la società, il discorso della società è uno, cioè la società se tu non mi dai l'obbligatorietà… L'obbligatorietà mediamente chiede un pochino di più… Allora, anche perché nella terza categoria sto vedendo, ma ripeto, seguo tutti i campionati, le prime in classifica sono tutte squadre che si sono formate quest'anno, quindi lavorano di entusiasmo e lì l'allenatore d'esperienza, il gruppo fa la differenza, quindi questo è in queste categorie. E ci sono dei massimali anche nel settore giovanile, settore giovanile e direttanti hanno il massimale e quindi c'è, dopo io le cifre… Un blocco, un blocco diciamo per contenere… Lo sanno le società, ma lo devono sapere in primis anche gli allenatori, perché noi dobbiamo fare gli interessi dell'allenatore, non delle società, perché le società vinci o perdi, comunque alla fine il rapporto si interrompe, succedono le cose, si torna. Ma però ci sono i massimali e vanno rispettati e contrattualizzati, obbligatoriamente. Allora, ci andiamo a vedere l'altra parte di messaggi, l'altro blocco, sono arrivati tantissimi, quindi alcuni li abbiamo già letti, vediamo gli altri e poi andiamo a fare la goleadina nei minuti finali di questa puntata così particolare di goleadina. Buonasera, buonasera a tutto lo staff di Supergevo, volevo fare il mio bocca al lupo all'amico Lucio Di Luz, la sua candidatura alla presidenza provinciale H, volevo ricordare, non dimenticare la regolarizzazione dei parenti di prima, seconda e terza categoria, non so se la legge ha fatto casualmente oppure ci ha messo il zampino, perché proprio se ne è parlato pochi secondi fa, che ormai si potrà da troppo tempo. Grazie a tutti e buon lavoro grande Lucio, Mister Pierluigi Manucci, anche questo firmato, quindi ringraziamo Mister Manucci, questo tema che è chiaramente molto sentito. Quando me l'ha chiamato ho detto, mando perché proprio mi interessa questo discorso, ci mancherebbe. A conferma delle tue parole. Si evince comunque una grande richiesta dai messaggi di intervenire, questo è positivo, io penso che anche Lucio ci ha rappresentato a livello nazionale, quindi andiamo sicuramente su un'altra fase. Io credo veramente sono amici più che allenatori e poi magari sicuramente questi messaggi qua mi vogliono ancora di più andare avanti a questa, però ripeto, poi l'elezione è tutt'altro sistema, quindi non è che io adesso dico ah caspito, però ci voglio provare, ci vogliamo provare. Poi ripeto, dopo 5 anni, 4 anni, uno potrà dire se è riuscito o non è riuscito, però noi ci dobbiamo provare, perché comunque in questo momento qua di stallo non porta niente, non porta niente, perché comunque io tante volte a tante domande di qualche allenatore non so rispondere, ma non è perché non voglio rispondere, perché c'è tanta confusione e tanto… Poi magari quando usciranno date e candidati possiamo fare anche nell'immediatezza una puntata dedicata con tutti i candidati, io al momento non so, non è ufficiale la data, non sappiamo i candidati, come si fa in queste occasioni facciamo una puntata plurale, lo dico, a scanso di Lucio è un amico, è da sempre amico del calcio rettantistico, della nostra trasmissione, quindi ci viene a trovare di tanto in tanto, quest'anno è capitato che c'è il rinnovo delle cariche, ma poi quando tutto sarà ufficiale poi magari faremo anche qualcosa di più ufficiale, di più plurale. Vediamo gli ultimi messaggi ancora e poi andiamo alla golearina, bocca al lupo a Lucio per la candidatura, Tiziano Giuseppe Antoni, anche Tiziano, mister del Campli ci stato in precedenza, insomma fare in bocca al lupo a Lucio, ancora con gli ultimissimi, se ci sono ancora, ce li andiamo a legge, grande Antonio sei un super Presidente di tutta Tosticia e fiera di te, questo invece è un messaggio per il Presidente del Tosticia, quindi un tifoso del Tosticia approfitta di questo spazio per fare i complimenti, insomma quello che sta facendo il Tosticia, in bocca al lupo Lucio per la sua candidatura, è sempre impegnato nella difesa dei diritti degli allenatori, mister De Vigo, quindi arrivano da tutti i fronti, anche alcuni, lo saluto volentieri, qualcuno forse nemmeno te lo aspettavi, no, ti dico no, sinceramente no, grazie. Se adesso la regia chiedo, insomma ancora, infini sei l'unico che si incontra a vedere le partite, ma non basti per vedere tutto, spero che come Presidente cambierà tutto, io sono convinto sempre che c'è non da cambiare, ma da aggiustare, ma giustare non è che sono io, Mario, è il gruppo allenatore che va aggiustato, perché comunque l'allenatore deve essere, quando va alla società si deve presentare in un certo modo, avere stima di se stesso, è l'allenatore, io quello che posso dire è che ci voglio mettere l'unico. Di sicuro non sei rimasto a casa sul divano in questi anni, ti del bene e del male e ti sei fatto conoscere. No, anche se delle volte sono anche facendomi dei nemici, però sai che mi sono accorto, che i nemici erano quelli che erano in regola, perché chi sta in regola non è un nemico. La coerenza ti è stata sempre riconosciuta. Penso di non mai, sono state delle situazioni anche difficili, anche di magari allenatori, parliamo di Chieti, che venivano a giocare nel Terramano e non stavano in regola e io ho dovuto fare anche la parte là, no, quello no, magari giù c'è la parte di Chieti, vedranno la partita. Ti ho detto, ma non mi fa paura queste battaglie, le chiamiamo battaglie, però continuo a dire sempre che tutti insieme, dobbiamo cambiare, ci dobbiamo sforzare tutti, perché comunque, ripeto, come questa terza categoria per me, io sono convinto che a terza categoria scenderanno tanti ragazzi delusi che non ci stanno le juniores e quindi magari per giocare vanno in terza categoria, quindi anche là c'è bisogno di un allenatore, di un qualificato, competente. Io un anno mi ricordo che l'allenatore era importante per gli allievi regionali, ma non per gli allievi provinciali. Per me questa era pura follia, l'età è stessa. All'amico di Tosticeva, faccio anche complimenti perché Tosticeva si è qualificato in Coppa Abruzzo, è l'unica squadra terramale in seconda categoria che ha battuto la Valle del Fino, quindi 3-1 dopo l'andata che si era conclusa sul 2-2, e invece in Coppa Abruzzo di prima, nel triangolare, nei vari triangolari, Atletico Terramo-Barisciano 4-1, Morrodoro-Leansvilla 3-4 e Pro-Monte-Silvano-Adranus 1-1, si giocherà l'ultimo turno, se non mi sbaglio, mercoledì 6 novembre. Adesso andiamo alla golearina, abbiamo un minutino prima della conclusione, non si gioca in prima e seconda, ma abbiamo pescato tra promozione, terza categoria, e poi una chicca finale, chiaramente domenica c'è il derby d'Italia, quindi abbiamo per la prima volta inserito una partita di Serie A come ottavo pronostico nella golearina, chiaramente ringraziando infinitamente, ancora una volta, Madre Natura, nuova locandina, nuovo evento quest'anno la domenica, latino commerciale con aperitivo dalle 18.30, subito dopo le partite, terzo tempo in campo veloce, e poi aperitivo a Madre Natura, grande serata per questi amici, questo locale fantastico, che è da sempre nostro partner. Andiamo a vederci la golearina, la cena che Madre Natura mette a disposizione, ogni settimana, chi andrà? Queste sono le 8 partite, 1x2, sottoponiamo già da stasera Mario e Lucio, partiamo con Alba Adriatica, Università Roseto. Mario. Allora, volevo fare giusto l'ultima considerazione, chiediamo pure collaborazione ai presidenti delle società, che vengono avvisati tramite mail e comunque con tutte le cose che fanno, sono da ammirare, però cerchiamo pure da parte loro di avere un dialogo, e quindi di andare insieme, perché ci sono pure molte società, come dice Lucio, che poi si mettono in regola e che comunque seguono questo input, e quindi li ringrazio e chiediamo pure a loro di andare insieme su questa direzione. Poi, Alba Adriatica. Per quanto riguarda la golearina, andiamo con la prima che è Alba Adriatica, Università Roseto, prima Mario, poi Lucio, 1x2. Allora, 1, Alba Adriatica, 2 Mutignano. Alba Adriatica, Università, Lucio? X. Andiamo con la seconda, Fondanella e Mutignano. Mario? 2. Lucio? X pure. Rosetana, prima della lenta, ancora promozione. Allora, qui magari ci può essere la scossa, 1. Io, mi spiace per dimarciare, ma è 2. Quindi, discordi qua. Scendiamo un bel salto e andiamo in terza con Ancarano, con Ropoli. Come dicevo prima, sono tutte nuove, new entry, quindi diamo fiducia sulle ali e entusiasmo. 1. Ancarano. Lucio? 1, anch'io. Real Tordino, Rocca Santamaria. Idem, 1. Io 1 perché vedo il nuovo abilitato, ma che adesso mi sfugge il nome, lo vedo all'allenarsi, una carica paulosa e quindi 1. Anche perché aveva fatto due vittorie, ma aveva perso domenica, quindi 2-1, però comunque 1. Tortoreto, Nuova Toranese. Tortoreto, sono due realtà. Tutte sfide difficili. X. Lugio? X pure. Ultima di terza, Arsita Miano. Diamo fiducia, ripeto, il primo anno, quindi il ritorno dell'Arsita 1. Io sono sempre per il vecchio stile, quello che è il campo, dalla parte di Bisenza, sono sempre quelli campi infuocati, metto Arsita 1. Uno anche per te e chiudiamo in bellezza con Inter-Juventus. Non conosco la vostra fede, ma mi serviva un'ottava partita equilibrata. Io sono juventino, quindi metto due, però dopo la partita di ieri sera ho veramente dei grandi dubbi. Io sono milanista. Più neutrale. Mi piace il bel gioco propositivo, però devo dire la verità, io della Juve non sto capendo tanto, uno fisso. Uno per l'Inter, quindi uno o due anche per Inter-Juventus, per Mario Vettovalli e Lucio De Julis. Siamo in conclusione, quest'oretta passate insieme, tanti messaggi, quindi hanno partecipato e sicuramente ci hanno seguito in tanti allenatori appassionati per questa puntata particolare. Ogni tanto faremo delle finestre durante la stagione di Goliada legate alle varie cariche istituzionali che poi ruotano all'interno del mondo del calcio direttantistico. Stasera l'abbiamo fatto, credo, nel migliore dei modi possibili con Mario Vettovalli, consigliere Ajak. Grazie Mario. Grazie a voi e complimenti per la finestra che date su questi campionati e categorie perché si cresce anche con una giusta comunicazione e visibilità. Grazie a te Mario e ringraziamo chiaramente anche Lucio De Julis, allenatore. Io ringrazio, vedremo cosa succederà. Bocca al lupo, ti hanno fatto in bocca al lupo in tanti. Ma io veramente… Ormai è ufficiale la candidatura. Ma ufficiale no, però… Ci stai seriamente pensando. Io già l'ho detto, a livello di carte, ma io già l'ho detto, ho detto io faccio questo. E allora in bocca al lupo e grazie per essere stato con noi questa sera. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, grazie alla regia, Goliada torna tra sette giorni. Buonanotte. 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 Buonanotte.